Sì, avete letto bene il titolo. Oggi vediamo come creare una chiavetta USB avviabile senza programmi, quindi senza Ventoi, senza Rufus, senza Balena Etcher, senza tutto quello che ci va dietro. Ecco, qui vedete che ho praticamente inserito una chiavetta USB, che è un adattatore in realtà per una microSD, che uso come drive per Ventoi. Quindi questo è il motivo per cui qui vedete che c'è anche la partizione di Ventoi. Comunque in generale questa qui è la chiavetta che andrò ad usare appunto per fare quello che dobbiamo fare appunto per farvi vedere questo video. Vado a formattare questa qui di Ventoi in modo che vediate insieme a me che non vi sto diciamo facendo vedere qualcosa che non è. Gli lascio lo stesso nome, tanto non ha importanza. Vado a formattare. Perfetto. Perché ho formattato questa qui principale ma non mi riunisce le partizioni, devo farlo attraverso... Come si chiama il tool di Windows? Diskpart? Se non ricordo male qualcosa del genere, poi lo farò. Comunque, come sapete, i file ISO in realtà sono degli archivi. Sono degli archivi che contengono effettivamente dei file. Contengono i file della distribuzione, quindi contengono i file di sistema della distribuzione, i file di avvio. In generale, tutto quello che serve affinché la distribuzione possa avviarsi. Mentre il firmware UEFI è in grado di avviare un eseguibile UEFI senza, diciamo, un bootloader che faccia da tramite. Quindi noi possiamo dire al firmware UEFI, guarda, questo è il file UEFI che devi avviare e lui lo avvia. Quindi, il concetto qual è? Apro, quindi, monto in poche parole il file ISO. Una volta aperto, vedete che ce l'ho qui, vado molto semplicemente a copiare tutti questi file, tutti i file che ci sono senza lasciare fuori niente, all'interno della mia chiavetta USB. Quindi, questa qui nel mio caso, microSD 16GB. Quindi, aspetto che copi. In questo caso ho preso Arch Linux, giusto per farvi vedere come fare, ma ovviamente funziona per qualsiasi distribuzione e per qualsiasi sistema operativo. Quindi può essere anche una ISO di Windows, di FreeBSD, di OpenBSD, quello che volete. Ecco, piccolo dettaglio mentre lo fa. Come sapete, le chiavette USB avviabili, affinché funzionino, sarebbe preferibile fossero formatate in FAT32. Io, nel mio caso, l'ho formatata in FAT32. Non dovrebbe fare tantissima differenza, nel senso che anche ex FAT dovrebbe funzionare, perché alla fine è sempre una chiavetta che contiene dei file. Quindi noi stiamo semplicemente dicendo al firmware UEFI del computer di avviare un file UEFI contenuto in quella particolare posizione. Quindi, in questo caso, la chiavetta USB. Quindi, per questo motivo, che la chiavetta USB sia formatata in FAT32 o in ex FAT, non dovrebbe fare differenza. Però, insomma, per andare ad abbassare la probabilità di errori, diciamo, è sempre meglio che sia in FAT32. Anche se, comunque, ripeto, non penso sia importante. Ha praticamente finito, anzi, ha finito. Adesso vedete qui che, nella mia chiavetta USB, ho tutti i file. Quindi posso andare a smontare il disco. Nella directory VENTOIA EFI vedete che non c'è niente. Mentre nella mia chiavetta USB ci sono tutti i file. Ora, vado a simulare un computer per avviare questa chiavetta, usando ovviamente VirtualBox come se fosse un computer. Abilitiamo UEFI. Ovviamente, altrimenti non funziona. Finiamo. E adesso dobbiamo fare in modo che avvii la chiavetta. Quindi, come facciamo qui su VirtualBox? Vado qui. Su un computer normale si avvia come se fosse stata creata con VENTOI, con Rufus, con quello che è. Quindi, semplicemente potete, o attraverso il BIOS, impostare la chiavetta come prima opzione di avvio, o, tramite il boot menu del BIOS, andare ad avviare la chiavetta. Io prendo questo qui. Aggiungo la chiavetta a questo quel microfono. Credo sia questa. Ok. Posso provare ad avviare e, se tutto va bene, dovrebbe avviarsi la chiavetta. Sempre se ho scelto quella giusta, ovviamente. Quindi, andiamo a vedere. Eccola qui. Si è avviata la chiavetta che abbiamo appena creato, tra parentesine, con questo trucchetto. Vi faccio vedere che, se vado a spegnere la macchina virtuale, vedete che mi riapre la chiavetta, quindi effettivamente ha usato quella chiavetta, l'aveva occupata. Se vado a smontare, per così dire, la chiavetta, quindi la vado a togliere da qui, avviando la macchina virtuale, non si avvierà perché, ovviamente, manca il disco da cui avviare, manca il sistema operativo. Eccolo qui. Quindi, per questo video è tutto. Vi ho fatto vedere in maniera molto semplice come sia possibile creare una chiavetta USB avviabile, senza software di alcun tipo, anche se, secondo me, vale la pena comunque continuare ad utilizzare. Ventoi, perché ci dà la possibilità di usare più ISO nello stesso momento. Dovremmo fare una prova, magari, se questo video raggiunge abbastanza mi piace, se nei commenti mi fate capire che vi interessa, posso fare un altro video in cui proviamo a mettere tutti questi file dentro una cartella, quindi, ad esempio, magari facciamo più cartelle. Facciamo una cartella Arch, facciamo una cartella Debian, facciamo una cartella di un'altra cosa, non so, vediamo se ho abbastanza spazio nella chiavetta. E poi andiamo a vedere se, scegliendo un particolare file, quindi, ad esempio, se avvio il file EFI, ad esempio, un file EFI, come potrebbe essere questo qui, no? Questo qui, in teoria qui. Ok, vabbè, comunque, andiamo a pescarci, insomma, il file EFI, che dovrebbe essere, da qualche parte deve per forza esserci, quindi l'abbiamo trovato. Posso fare una cartella, ad esempio, Arch e avvio il file EFI di Arch, metto dentro tutti questi file qui, queste, queste cartelle, tutto quello che è, all'interno di una cartella denominata Arch, ne creo una denominata Debian e faccio la stessa cosa, e vediamo se è possibile imitare, per così dire, il concetto di eventoi, quindi poter avviare più distribuzioni. Se nei commenti mi fate capire che vi interessa e questo video raggiunge abbastanza mi piace, lo facciamo. Io per questo video ho finito, scrivetemi nei commenti cosa ne pensate, se vi sembra interessante, se lo sapevate già, se vi era già venuto in mente, perché come concetto è abbastanza logico, ma spesse volte è proprio ciò che ci sembra logico, è proprio ciò che è logico, che non ci viene in mente. Quindi, fatemi sapere nei commenti, noi ci rivediamo in un prossimo video. Ciao!